Ciao amici del Centro Verde, oggi vi parlo della spazzola in acciaio da decespugliatore D200. La spazzola in acciaio è uno strumento universale per tutti i nostri decespugliatori non inferiore ai 25 cm3. È utile sicuramente nella pulizia di pavimentazioni come porfilo, sottolatti, marciapiedi, ma anche nelle bordature dell'asfalto. Non lasciamo cadere nel terreno i soliti pezzettini di plastica del filo tradizionale decespugliatore. Nella nostra confezione troviamo vari tipi di adattatori che ci serviranno per installarla in qualsiasi tipo di decespugliatore in commercio, le istruzioni per l'installazione e naturalmente la spazzola. Andiamo a vedere come montarla in un decespugliatore. In questo caso abbiamo scelto un decespugliatore onda. Il nostro decespugliatore, abbiamo già tolto la testina, prendiamo la nostra spazzola in acciaio, andiamo ad appoggiarla sul nostro decespugliatore onda, scegliamo dalla scatola gli adattatori che ci servono per il fissaggio, una rondella sempre proveniente dalla confezione della nostra spazzola e il dado solitamente in dotazione all'acquisto del decespugliatore. Serriamo il tutto. Et voilà, la nostra spazzola è montata. Andiamo a vedere come lavora. Andiamo a vedere come lavora. Quindi amici, se vogliamo rimuovere da asfalto, da porfilo, da ciottolato o da tutte le nostre pavimentazioni di casa e non erbacce, arbusti e vegetazione varia senza l'utilizzo di diserbanti chimici, la spazzola in acciaio D200 è sicuramente una soluzione valida. Per maggiori informazioni clicca nel link sul video, metti mi piace sulla nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale YouTube.